è praticamente ufficiale antiste va a giocare allo spesso scusate se ho pronunciato male il nome del calciatore ma tra due anni viene giocare ufficialmente con la maglia nero verde del sassuolo infatti questa operazione è del sassuolo solo che lo manda in prestito per due anni allo spesso per farli giocare leggermente di più comunque questo qua è un classe 2002 che comunque ha fatto 30 presenza col toloso la sua ex squadra comunque per avere per essere un 2002 e fare 30 presenza e 7 gol diciamo non è proprio da tutti però visto che noi comunque la davanti siamo ben ben forniti secondo me abbiamo fatto bene a comunque mandorli in prestito per due anni allo spesso ma appunto poi c'è anche da dire con lo spesso c'è anche un altro giocatore del del sassuolo che arriverà appunto il prossimo anno però questo magari ne parleremo in un video proprio dedicato a lui comunque cosa c'è da dire è un ottimo prospetto io sinceramente non lo conoscevo però alla fine vediamo veramente quello che saprà dare in più tra due anni però nel frattempo vediamo cosa cosa saprà dare allo spezia questo giocatore visto che praticamente quest'anno ce l'avremo contro anche se il nostro dalla fine vediamo quello quello che saprà dare allo spezia e almeno così possiamo diciamo rendersi conto del suo effettivamente valore visto che comunque abbiamo pagato abbastanza come ho capito 4 milioni e mezzo cifra davvero tanto uno che ha fatto poco presenza però sappiamo tutti quanti come calcio mercato quindi alla fine alla fine vedremo alla fine vedremo proprio anche quest'anno quello che saprà dare proprio il calciatore e vedremo alla fine vedremo quindi detto ciò fino alla fine forza forza italia e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao